La peculiarità di questo master nasce dalla collaborazione abbastanza inedita tra un insegnante di canto di lunga data e di grandi risultati con un direttore, il sottoscritto, che ha sempre dimostrato una grande affinità nei confronti dei cantanti. Perché proporre un master sull'antica scuola di canto? Perché noi italiani abbiamo creato questo genere, ci vantiamo di avere un primato straordinario in tutto il mondo, di aver creato degli artisti vocali eccezionali, basta pensare solo alcuni nomi, Caruso, Gigli, Latebaldi eccetera, e vogliamo riprenderci questo primato e farlo ritornare splendido come è stato nel passato e quindi riproporre con un lavoro di raffinatezza e di grande atletismo da parte degli artisti, dei nuovi cantanti che ripropongano esattamente la scuola del passato che a tante glorie ci ha dato. Ho sempre cercato dai miei cantanti un certo tipo di spazialità, un certo tipo di omogeneità e spesso mi sono trovato con degli artisti non perfettamente in grado di rispondere alle mie esigenze. La peculiarità di questo master nasce da una collaborazione inedita e molto particolare. Si rivolge a tutti quei cantanti che hanno voglia di rimettersi in discussione, a tutti quei cantanti che si trovano all'inizio di una carriera e vogliono affrontarla con un'andatura sicura, tranquilla e a tutti coloro che magari si ritrovano a metà di una carriera affermata e si ritrovano perduti perché i risuonatori non rispondono come rispondevano una volta, perché la voce non ha più quella freschezza, quella elasticità che aveva e quindi noi siamo qui. Grazie a tutti.